Musica Ciao a tutti ragazzi, è stata 6 e benvenuti in questa nuova serie, ovvero l'Aulis Craft 3.0 Yeah, sulla 1.7.2 come potete leggere lì sopra Sì, abbiamo la 1.7.2, abbiamo una bezza di 60 mod per il momento Abbiamo la nostra bella minimappa che mi segna sempre un waypoint, non capisco il perché questa cosa E, eh, per un secondo, lo leviamo, eh Vabbè, però non c'è, vabbè, ok, forse è il nord quello, maybe Allora ragazzi, però prima di iniziare faremo una cosa, ovvero faremo questo qui Eh, no, aspettate, non è game mode ma, eh Game rule Ok, perfetto, questo significa che quando, eh, prenderemo del danno non potremmo recuperare questo, oh, questa vita che perdiamo Eh, semplicemente mangiando, ma dovremmo mangiare qualcosa che ci dà le generazioni, ovvero la mena d'oro generalmente, oppure delle pozioni direttamente di oro Quindi, il gioco diventerà molto più difficile E, bom, GG, iniziamo a giocare ragazzi Dobbiamo trovare un bel po' di legna Eh, siamo spawnati in un bioma di merda, sinceramente Ok, no, forse c'è qualcosa qui vicino Allora, io mi potrei buttare nell'acqua Così non perdiamo nulla per ora Del ferro, ottimo C'è tanta roba buona ma non c'è, eh, della legna Ok, la legna ci serve sicuramente Quindi, eh, cerchiamo di trovarla Oh, la Solsand Eh, c'è la Solsand, la Quicksand Ok, ehm Allora, abbiamo anche la Wila Perfetto Ehm, interessanti questi Questi qua sono fighi, tipo Eh, però dobbiamo fare attenzione a non morire, sicuramente Ehm, per la Ok Ottimo È davvero pericoloso morire così Ok, allora, lì c'è un bel po' di wood Quindi andiamo a prenderlo di D Pensavo fosse un po' più lontano E prenderei anche un bel po' di blocchi di Ehm Quelli sono blocchi Come si chiamano? Di Di clay, sì, di clay, di clay Quello figo però è la clay Ehm, come salgo lì? Penso da lì sia più semplice Senza fare, tipo, scavare, cose del genere Cos'è quella cosa? Oh Cactus fruit Nice Come si fanno a craftare? Ah, ok, non si craftano, se non si trovano Perfetto, perfetto Abbiamo mangiato pure un altro Ottimo, ottimo Uh, una cosa della towncraft qua Un nodo Facciamo Sì Mettiamoci un bel viewpoint Nod, ok Perché potrebbe essere un utile futuro Ok, allora Facciamo attenzione a questi cactus Perché se no ci facciamo male Quando ci saranno sopra E come avevo detto Non recuperiamo vita Quindi qua è la parte più importante Di questa parte di gameplay Sappiate che Ehm, non ci saranno tantissimi Ehm, gameplay Da Riscalf 3 E comunque la serie non durerà tantissimissimissimo Sì, è stato tante volteissimo Perché semplicemente è una serie Ehm, testing Ovvero La maggior parte dei mod Che ci sono adesso In 1.7 Ehm, sono Ehm, state create Però non ancora definite Perché Sto aspettando che Forge Ehm, passi All'1.7.10 Ma prima deve passare Minecraft All'1.7.10 Quindi è normale Quale cosa Perché è questo Perché Dalla nuova versione di Forge Ehm C'è stato detto Che Ehm Che Forge Ehm Con la nuova build Con la 1 La 121 Mi sembra Sì Ehm 121 10 1.7.10 121 Ehm La parte finale Importante Ehm Ha dato la possibilità Ai modder Di poter convertire Direttamente il codice Che non ho scritto Per una mod Direttamente N1.7.10 Quindi non ci saranno problemi Quando Si passerà A 1.7.10 Direttamente Perché Hanno voluto fare questa cosa Hanno voluto lasciare Per adesso 1.7.2 Senza passare Sulle altre Sinceramente Penso sia un'ottima idea Perché Se no si sarebbero creato Tante versioni Eh Bisognava riscrivere Da capo il codice Per quella versione Alcuni cambiamenti Sono stati fatti Per alcuni oggetti Durante tutto L'arco Dell'1.7 Quindi Hanno cercato di aspettare Ehm Una buona build Comunque L'1.8 Non uscirà Molto a breve Ci vorrà Ancora Tanti tanti mesi Hanno detto E quindi Ehm Passeranno sicuramente A 1.7.10 E saremo Un po' Messi meglio Sinceramente Quindi buona questa cosa Allora Visto che abbiamo un bel po' Di questo caletto Coso qua Facciamo un po' Di stick E una crafting table Perfetto La piazziamo qua Facciamoci un attimo Una Piccola Un piccolo piccone E recuperiamo Questa bella cobblestone Tanto ce n'è un sacco Qua vicino E io direi Che ci dobbiamo anche Tipo Introdurre In una casa Il più presto possibile Perché Sarà abbastanza faticoso Sopravvivere Per molto Molto Tempo Perché fin quando Troveremo un bel po' Di oro Siamo fottuti Un attimo In modo semplice Perché poi Tipo Se perdiamo danno Prendiamo un sacco Di mazzate Lì c'è un bel po' Di roba interessante Che andiamo a prendere Ci dovrebbe essere Anche un bel po' Di coal Qua Perfetto Ottimo Coali c'è anche Limestone Limestone Mi piace tantissimo Però comunque Carina Ok Perché sto usando Sulla Davanti Lì sopra Il La nostra Waila Che Waila sarebbe la mod Che ci permette di vedere Il blocco che stiamo minando Il blocco che stiamo vedendo Attualmente Vedete qua Coalstone Qua Cobrest Coal Cobrest non ce l'abbiamo Quindi è giusto Ok E Perché la sto usando sopra Perché Perché non ne ho idea Non ne ho idea perché lo faccio Sinceramente Penso l'avrò lasciata lì sopra Quindi Ok Perfetto Allora Come vedete un bel po' di coal Ci servirà Come sempre Sponiamo sempre con il nostro libro Del Materials in You E in giro dovremmo sponare anche con la Mariculture Mariculture Visto che c'erano un paio di mod Carina e coccolose nuove Che vi presenterò In questa nuova versione E che se andranno bene E si dimostreranno delle buone mod Usciranno anche sull'Uriskaft 4 Che sarà La serie modata Sulla 1.7.10 Quindi tranquilli Ho fatto tutto Tranquillamente Con i numeri Quindi Si capisce qual è quella Che viene prima E quale che viene dopo Tranquillamente Questo modpack Non sarà rilasciato Quindi non chiedetelo nei commenti Perché non lo troverete Da nessuna parte Per il momento E Ehm Uscirà soltanto Poi in futuro La Ulyskaft 4 4 Che sarà quella più importante Diciamo Ok Perfetto Facciamo in questo modo Vediamo un attimo questi fiori E queste altre cose inutili E Ok Perfetto Ah non funzionerà Su questa crafting table Un momento di click Vabbè dettagli Andiamo Ok Allora Mangerei un attimo Quest'altro cactus Fruit Anche se non mi da tantissimo Sinceramente Però più o meno qualcosa mi da Allora vediamo un po' Ok Se riusciamo a non cadere Magari Dovremmo andare in un biomeo In cui possiamo trovare Più facilmente Roba Della Della Un bel po' Di cobblestone Non mi preoccupa Sta cobblestone Perché potrebbe essere Cobblestone strana E ci sono delle skystone Ah ok Non posso prendere Questa skystone Perché qui dentro Comunque Questa servirà in futuro Delle applete Vedete Però al momento Non possiamo prendere Perché servirà del ferro Penso Però qua ci metto Un bel viewpoint Che potrebbe essere utile Sky Skystone Perfetto Ok Un'altra skystone Abbiamo trovata Andiamo a vedere E se riusciamo a trovare Qualcosa di un po' più utile Tipo quel sale Ci sta Ok Prendiamo questo sale Ci vorrà un bel po' di sale In effetti Qui c'è Ah qui c'è un alberello Forse Vabbè Vabbè Dettaglia Non abbiamo preso comunque Un bel po' di roba Un bel po' di roba Già Ok Vediamo un po' Oh Qui ci sono un bel po' di Shard Della Tinker Eh Della Tinker Sedi La Towncraft E c'era anche un ragnetto Lì Che preoccupa Un ragnetto C'è un creeper Quindi facciamo attenzione Sì sì Sentite le trombe Perché stanno Facendo semplicemente Le prove Premondiali Perché oggi è venerdì Quindi Ci giocherà la partita De 18 Anzi tipo Fra poco Presumo Si giocherà la partita Ok Quindi Nice Nice Se Vincerà l'Italia Oggi Dovrò pubblicare 6 video domani Quindi divertitevi A vederli tutti Nel caso succeda Nel caso contrario Beh Ci accontentiamo Vado un attimo Rispondo al telefono Ragazzi Arrivo subitissimo Ok ragazzi Rieccomi Allora Stavo dicendo Dobbiamo un attimo Recuperare tutto il cibo Che possiamo Così da non Dover poi Essere costretti A uscire Molto Presto E un bel po' Di core Perché il core Servirà per Iniziare con l'energia Del nostro mod pack Al momento Non c'è ancora La thermal expansion Che è la mod Su cui Più o meno Diciamo Giochiamo un po' Tutti Nel inizio Ma C'è la Ender Enderio Che comunque Più o meno È simile E anzi Vuol dire che Per certi aspetti È anche meglio Quindi Ve la mostrerò Pian piano Con i vari aggiornamenti Che hanno fatto Nel Enderio Ma per il momento Abbiamo bisogno Di altra roba Tipo quel copper Che è utile Ecco il copper Che ho mancato È Ah Boxit è questa Scusate Non è copper Ok Il copper che abbiamo lasciato È quella di Industrialcraft Come sempre Ce ne sono Industrialcraft Buildcraft Le solite mod Che più o meno Fanno parte Di ogni mod pack Ehm Altro Boxit Ottimo Si trova anche In superficie Devo dire Quindi è buona Una cosa Ah Voglio mettere Le coordinate Ragazzi Perché almeno Siamo sicuri Dove siamo Ok Large Perfetto Ok E anche Quello Perfetto Possiamo farci qualcosa Per esempio Questa boxit Soltanto il Malted E cosa ci facciamo Con Malted Ah ok Ci facciamo Il glass Ok Perfetto Quicklime Interessante Interessante Ok La notte Ci sorprende Quindi Io direi Che possiamo Recuperare Quest'ultimi pezzi E poi andare Un po' A scavare Sottoterra Se riusciamo A trovare Qualche cosa Di interessante Perché Non abbiamo Ancora perso Cuore Non ho fatto Vedere ancora Come funziona Questa modalità Che forse Qualcuno Non ho mai visto Però Per adesso Cerchiamo Di non farvelo Vedere Perché In caso Potrei morire E la cosa Non sarebbe Molto Molto Bello Sinceramente Ok Quest'altro Coal E poi Andiamo su Perfetto Ottimo Vediamo un po' Vediamo un po' Non c'è nulla Più o meno Non ci dovrebbe essere Nulla Ok Allora Lì c'è un paio Di robe Interessanti L'acqua Lì c'è Una piccola grotta Andiamo di lì Ragazzi Chiediamo Sti maiali Che troviamo in giro Cos'almeno facciamo Un po' di roba Ci facciamo Maiali Prendono danno Si sa cosa succede Anche a noi Quindi facciamo Attenzione anche noi Ottimo No Verda Ok Recuperiamo anche Questa boxita Anche se In effetti Ho visto che è venuta Si è venuta Però dettagli Prendiamola comunque Ok Allora Questo bioma Non è proprio il massimo Per iniziare Perché non c'è Tantissima roba Non c'è nemmeno Tanti pezzi Di tante altre robe Comunque Però adesso Ci possiamo contentare Prendiamo questo sale Perché ci servirà In futuro Per fare Qualche piccola cosa Ok Ok ragazzi Arrivo Sciubitissimo Ok ragazzi Rieccomi Allora Dovemo un attimo Andare lì dentro A rifugiarci Per il momento Guardate che bella Ah bella Quella mod Precato che sia stato La bioma supplenti Pensavo che io Fasse una mod aggiuntiva In effetti Mi sono chiesto Ma ho messo quella mod No e invece La bioma supplenti Quindi si è figa La bioma supplenti E infatti Iniziamo sempre i modi Con la bioma supplenti Che è troppo p Davvero molto bella Come mod Per aggiustare un po' Minecraft E vari biomi Allora Dove era la caverna Qui dentro Wow Bella grande C'è stato del quarzo C'è E' il quarzo Potenziato Che è un quarzo Diverso da quel quarzo Normale Che avete visto Ok Ehm Perfetto Allora Distruggiamo qua Siamo in normal Quindi siamo in normal Perfetto Ok Ci rifugieremo In questa casetta Nel posto di bisogno Andiamo a vedere La tinker construct A meno l'inizio E Nel frattempo Metterò a cuocere Un po' di carne Anzi Facciamoci una piccola fornace Prima di chiudere Anzi ce l'abbiamo già Perfetto Mettiamo del cuore qui sotto E mettiamo questa Robe Un po' A cuocere Quindi da noi siamo Tassi di tutto Ci vediamo Nel prossimo episodio E Boh Buona fortuna Italia Se magari vince Lo dirò dopo Perché fa registrare Un altro episodio Ciao ragazzi Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare Video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno Di video di gameplay Quindi Che aspetti Vi do so E farlo più da vicino Persone o animali O bambini Non sono stati sfruttati Per la realizzazione Di questo video Ciao